La possibilità di istituire a Barletta una sezione operativa navale del reparto operativo aereo navale di Bari della Guardia di Finanza è ipotesi più che concreta. Il sopralluogo di questa mattina presso la sede della Capitaneria di Porto rappresenta un segnale importante in questa direzione. L'istituzione della nuova sezione operativa navale andrà a realizzare una nuova fase del progetto per la sicurezza del mare, promosso dalla provincia di Barletta Andriatrani nel 2021 coinvolgendo il vertice regionale della Guardia di Finanza, la direzione regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del Demanio, l'autorità di sistema portuale del mare Adriatico Meridionale, la Capitaneria di Porto e il comune di Barletta. L'iniziativa punta a realizzare un presidio idoneo a garantire i servizi di ordine e sicurezza pubblica in ambiente marino da parte della Guardia di Finanza in considerazione della posizione costiera strategica del porto di Barletta, equidistante tra il capoluogo regionale e la città di Manfredonia. La sua dislocazione richiederà, come presupposto, condizioni strutturali e strumentali adeguate, su tutte banchine funzionali, ormeggi e un locale da adibire a caserma. Aspetti di rilevanza prioritaria tali da aver richiesto tavoli tecnici prima di pervenire all'individuazione all'interno dell'area portuale di una superficie demaniale edificabile dell'estensione di circa 300 metri quadri.